ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi il tutorial numero due di archage abbiamo visto nell'episodio scorso come recuperare il primo campetto con una serie di quest anche piuttosto veloci ora oggi andiamo a vedere come trasformare questo campetto 8 per 8 in un campetto 16 per 16 quindi diciamo che lo renderemo quattro volte più grande andremo anche a piazzarlo a dire la verità allora in pratica abbiamo già visto che il campetto è piccolino lo renderemo quattro volte questa dimensione allora il campetto richiederà dei materiali io ovviamente se voi li craftate dovete andare o comprarli all'asta o farveli manualmente quindi farvi del legname e legname abbastanza difficile da fare non avendo il campo perché ve lo dico subito in giro per il mondo alberi da abbattere ce ne sono pochi infatti non per questo vedete un sacco di gente che li coltiva allora io ho due personaggi appunto per il limite dei labor points che non sono tanti quelli che ho quindi andiamo a prenderli me li sono fatti col personaggio principale e allora avete la mia stessa reazione quando vi diranno dovresti farti un altro account e dici no la risposta è no rimetendo uno poi se il gioco vi prende lo farete senza dubbio ma anche perché calcolate i due account ma una volta comparato non spendete più nulla l'ho pagato 10 euro quindi diciamo che ci sta l'altra cosa che va fatta ora è la costruzione del tavolo della scusate del del campetto quindi la proprio la creazione quindi a questo punto dobbiamo scoprire sempre col tasto o come vi avevo detto andiamo a vedere in pruvede scarecrow farm design lo si fa al carpentry workbench e vedete che abbiamo tutto ci costerà 100 labor point che non è tantissimo allora il carpentry workbench non è questo perché questo serve per trasformare i log quindi questi tronchi qui in questi ma è quello a fianco di là invece c'è quello della pelle allora in questo caso non voglio cercarlo scrivo improved e lo creo da qui ora io vi faccio vedere che per fare questi come avevo già detto cliccando avrete bisogno di fare 50 quindi 50 all'uno quindi due sono 100 ne dovete fare 100 poi 100 lumber che sono circa 300 log un albero mediamente ne da 8 quindi fate il calcolo però li comprate 100 li pagate sui 50 gold se vogliamo vedere dal punto di vista finanziario 50 silver si 50 iron ingot quindi ve ne serviranno 100 perché sono richiesti in due e 2 e 100 costano veramente pochissimo perché li avevo già fatto vedere però lo andiamo a rivedere iron ingot un centinaio costano pochissimo adesso facciamo 100 17 gold quindi siamo quasi a 70 gold finora di quanto preventivato vabbè una 25 in ancora per fare quello che viene chiesto come clotta e come pelli per fare questo che sono dei dei rotoli di tessuto e poi potete mettervi a cartare ora andiamo a farlo questo lo potete fare subito cioè se avete soldi avete un buon giro cioè riuscita ad accumulare un po di soldi non dovete neanche aspettare livello 50 mi fate già il campetto quello più grande ora lo sto aggiornando l'altra spesa che avremo da fare ora è in termini di uno tasse due legname perché ogni edificio che voi piazzate richiederà vedete intanto io ho fatto esperienza e facendo tutto il crafting prima mi sono fatto un livello e mezzo perché a volte 30 quando ho iniziato questa serie di tutorial sono già 31 e mezzo quindi insomma allora andiamo a a casa ora ma la mia casa la riconosco qui ho i due campi davanti che sono di proprietà del mio personaggio principale e abbiamo questo vedete il campo numero 3 della mia proprietà posso piazzarne uno soltanto c'è uno soltanto scusate o lo piazzo qua davanti che ci starebbe anche bene o lo piazzo a lato della casa però c'è il rischio che poi qui ci sia uno spazio non non so nemmeno io se metterlo di lato o metterlo qua davanti però qua uno e poi magari ne metterò un altro di qua poi in futuro quando quando lo avrò per metterlo di lato non lo so ma ma sì dai mettiamolo di lato tanto così almeno qui non ci sta più nessuno e mi ipotecco già questa zona qua tanto mi hanno detto che non dovrebbero esserci problemi a costruirlo qui quindi lo piazzo qua di lato lo piazzo conferma posso ruotarlo ma adesso non ha senso posso ruotare questo ma vabbè lo piazzo a questo punto mi chiede 30 di tasse io ne ho 65 quindi se no ne andavo a comprare e lo piazzo ora vi faccio vedere in breve come si craftano le tasse le tasse quando vi avvicinate potete fare e dovrebbe uscire una letta quando ho finito di costruirlo però magari riesco con questo vedete c'è il tasto h che è un crafting potete fare le tasse costano 5 tasse 300 labor calcolate io ne ho 1200 quindi ne faccio 4 5 per 4 20 tasse conviene comprarli a soldi a gold perché se no vi trovate a non poter far più niente per un giorno quindi la logica e questo è un discorso che vale per tutti quindi non è che siamo sul archage non quello unchained quindi quello free to play dove se paghi puoi avere il labor point più che si rigenera più rapidamente qua la storia è uguale per tutti dobbiamo craftare con questo che è il tavolo di raffinazione dobbiamo fare questo il lumber pack che ci viene richiesto quindi per finire il campo ci chiedono 100 lumber che non erano previsti in quello che abbiamo visto prima ma la maggior parte degli edifici è così la casa soprattutto e ve l'ho fatto vedere nei video quelli diciamo che non erano tutorial insomma in futuro poi andremo a vedere come magari ottenere facendoci un video come ottenere il l'asino e poi il carretto il carretto magari lo faremo anche in collaborazione con la gilda il carretto per trasportare le risorse diciamo commerciabili però quello è un altro discorso da vedere c'è veramente tanto in gioco e vorrei realizzare una serie di tutorial in italiano perché attualmente non esistono ne approfitto anche per il fatto che mi sono preso abbastanza bene in questo gioco sebbene magari ogni tanto dopo qualche full immersion una voglia magari di non giocare per qualche ora o una giornata o due mi viene ma è normale allora o di cambiare gioco un attimo e farmi qualcosa più di single player ma ci sta allora il campo vedete che qua è in costruzione dobbiamo depositargli semplicemente il spendere 25 labor e iniziamo a lavorarlo e a quel punto il campo sarà pronto ora che cosa faccio ora gli imposterò che la famiglia la family potrà accedervi la family che cos'è è una sorta di sottogilda ma dire la verità con la gilda non ha niente a che fare però è una famiglia in pratica voi avete giocate con degli amici e non avete la gilda non volete entrare in gilda vi fate la family avete delle quest giornaliere da fare che vi danno comunque dei punti vi danno dei soldi e fate una sorta di mini gilda permanente noi ne abbiamo fatta una in modo che ci aiutiamo tra noi collaboriamo tra noi soprattutto vedete io adesso vado a settare i permessi di imposto a family tutti i membri della mia famiglia quindi compreso anche il mio personaggio principale potrà piantare qui qualcosa quindi che dire può fare qualsiasi cosa qui posso andare a raccogliere questi posso piantare dei semi che non credo però di avere posso andare ad esempio c'è questa valuta qui dei vocation pages i vocation pages sono dei punti una valuta che guadagnate ogni volta che raccogliete qualcosa che avete piantato ogni albero che tagliate tutto quello che ha a che fare il con l'agricoltura e l'allevamento con questi comprate dei semi che normalmente non trovate poi vi sembrerà tantissimo poi in realtà sul personaggio principale ne ho 27.000 perché con le quest giornaliere le pozioni che si trovano agli eventi così cosa faccio io ora compro un po di queste che mi servono ne compro queste poi è ovvio che quando sapete giocare avete magari dei tempi morti viene bello viene bene anche aiutare gli altri quindi magari questo campo lo darò magari anche a chi un altro giocatore che è entrato da poco e magari nel frattempo non ha il campo ma se avete seguito la guida il campo ve lo fate in tempi brevi ovvio io ho avuto un po la vita facile perché avendo trovato la gilda avevano questo spiazzo dove ho potuto mettere vabbè intanto io pianto piantando tra 4 ore le zucche sono pronte ore reali e posso raccogliere mi prenderò non tanto mi prendo 1 1 1 1 4 pages 4 vocation pages quindi insomma sono sono pochi insomma allora abbiamo visto come aggiornare il campo a lotto il 16 per 16 quindi quadruplicarlo come dimensioni ovviamente mi costerà una resia di tasse perché ogni comunque ogni tot bisogna pagare le tasse io devo 50 per la data della casa i 20 per ogni campo quindi ogni settimana 50 più 60 sono 110 o 110 gold o un sacco di labor point da spendere niente vorrei spiegarvi altro per diciamo farvi un tutorial un po più sostanzioso però in realtà ora mi fermerò e attenderò che cosa volete sapere di cosa da sapere ce ne sono cosa sono gli honor point eh perché ci sono gli leadership point di quello sono meno informato che cos'è nello specifico l'arch pass che ci dà una serie di oggetti e ogni settimana ci consente di fare delle quest ehm insomma da da fare da fare ce n'è da fare ce n'è da spiegare ce n'è quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo tutorial e che cosa magari vorreste vedere e soprattutto se devo continuare a farli la gilda mi ha già dato disponibilità a collaborare fare partecipare anche video quindi insomma fatemi sapere che cosa ne pensate alla prossima e ciao ciao